buona serata gentili telespettatori eccoci siamo assieme per parlare di quanti fatti diversi fatti che sono accaduti in Friuli Venezia Giulia e in apertura parliamo proprio ancora di cronaca e della cronaca giudiziaria investigativa se non altro sulla morte lo ricorderete l'omicidio della coppia di fidanzati a Pordenone ebbene a quanto pare emerge che potrebbe essersi trattata di un'esecuzione di tipo militare quella tecnica insomma per uccidere in pochi secondi è davvero particolare sentiamo il servizio di apertura del telegiornale nessun appello al killer di Trifone e Teresa perché non si può parlare a un mostro che ha ucciso un amore come dice mamma Eleonora ma chi ha visto e continua a tacere probabilmente perché teme per la sua vita quello sì è stato rinnovato in televisione per far capire a tutti che l'assassino non può restare a piede libero è per questo motivo che dopo la fiaccolata a Pordenone Francesco Ragone ed Eleonora Ferrante accompagnati dal figlio Gianni sono comparsi per la prima volta in uno studio televisivo quello di Canale 5 dove è andato in onda segreti e delitti hanno ribadito che per loro il movente resta inspiegabile che se avessero avuto il sentore che Trifone fosse stato in pericolo ci sarebbero subito mossi stanno cercando la verità continuano a collaborare con gli inquirenti fornendo spunti di indagine particolari a cui inizialmente non avevano dato peso e adesso guardano sotto una nuova luce il sospetto che a uccidere sia stato un killer professionista lascia aperta anche l'ipotesi di una esecuzione di stampo militare attribuibile a una persona addestrata per uccidere freddo, preciso, l'assassino non ha lasciato al caporal maggiore Ragone il tempo di reagire si è avvicinato alla macchina e ha esploso sei colpi in rapida successione a segreti e delitti si è anche fatto riferimento a una tecnica militare diffusa tra marines e corpi speciali che insegna a uccidere in pochi secondi e in spazi angusti e si è vagamente accennato a un'altra storia violenta che si intreccia con il delitto dei fidanzati di Pordenone riguarderebbe un giovane ingaggiato per missioni sotto copertura si è poi parlato della semiautomatica 765 usata dal killer un modello non recente e un po' usurato aveva anticipato il procuratore Marco Martani l'ex comandante dei RIS Luciano Garofano ha parlato di tracce di ruggine precisando che fenomeni di ossidazione sono frequenti in armi che non vengono usate da tempo o comunque conservate senza cura nonché di un componente che sarebbe stato sostituito ed è stato anche ricordato che le calibro 765 in Italia erano in dotazione al corpo forestale negli anni 60 e ai corpi speciali Trifone era soprattutto un ragazzo molto semplice era attento, era un po' perfezionista infatti si vede anche dai livelli che aveva raggiunto fisicamente anche di preparazione sportiva ed era adesso innamoratissimo della sua fidanzata e quindi ai miei occhi era cambiato perché mi era diventato più uomo rispetto anche a un anno prima più responsabile? no, è sempre stato responsabile Trifone è stato sempre il fratellone, il fratello maggiore che guardava anche i suoi fratelli più piccoli, la sorellina lui praticamente, la Francesca, la piccola l'ha cresciuta lui che era bambina innata prematura e io mi sono allontanata dal lavoro per quasi un anno dopo dovevo rientrare per forza in ufficio se no a rischio di perdere il lavoro e lui mi ha sostenuta molto quando io ho dovuto lasciare la bambina a casa infatti lei non appena io l'ho iscritta alla scuola materna a tre anni si ammalava continuamente perché aveva dei deficit immunitari e Trifone mi ha aiutato molto da comprare le medicine e l'accudiva no, lui l'accudiva perché ormai si era già diplomato e quindi come studente universitario era un po' più libero e frequentava giurisprudenza che non c'è l'obbligo di frequenza a Bari e quindi mi ha aiutato anche a crescere la sorellina la cronaca ci porta in provincia di Udine a Martignacco dove un uomo ha pagato una cassa di vino voleva in qualche modo però eludere i controlli ma proprio i controlli hanno scoperto che addosso aveva della merce nascosta per 400 euro è finito nei guai si è aggirato per quasi un'ora nel reparto high tech dell'ipermercato della città fiera di Martignacco stazionando a lungo anche nei camerini dove si è nascosto addosso merce per circa 400 euro per poi recarsi a pagare alla cassa solo un cartone di vino un romeno CSM 24 anni già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Martignacco comandata dal maresciallo Edoardo Ciappi per furto aggravato lo strano cliente era già stato notato dagli addetti del supermercato che una volta in cassa lo hanno fermato per un controllo sono spuntate due console Nintendo di cui aveva cercato di appropriarsi senza pagare il rumeno aveva preso anche un paio di forbici da uno scaffale e le due console poi è entrato nei camerini ha spacchettato le forbici e con quelle ha tagliato le placche antitaccheggio dei due apparecchi tecnologici poi ha preso una confezione di vino per giustificare la sua lunga permanenza al supermercato era ormai convinto di avercela fatta quando è stato bloccato intanto questa mattina è stato processato con il rito abbreviato e c'è un altro colpo un altro furto di cui parlarvi un autocarro che finisce contro la colonna del self-service è accaduto nella notte sentite hanno agito senza mezze misure lanciando ad alta velocità un autocarro contro la colonina del self-service del distributore di benzina IP di via Martignacco al civico 248 proprio a Udine quasi come in guerra senza preoccuparsi di essere ripresi dal sistema di videosorveglianza che era attivo la colonna è stata distrutta completamente con danni per diverse decine di migliaia di euro ma la cassaforte vero obiettivo dei ladri è rimasta al suo posto i malviventi non sono riusciti né a forzarla né a portarla via la pompa di benzina ha subito gravi danni e dovrà rimanere chiusa fino a che non sarà riparata la colonna del self-service è accaduto proprio stanotte verso le 3 e sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Udine grande amarezza da parte del presidiatore della pompa Cristiano e anche di un suo collega che opera vicino alla città fiera rapinato lo scorso febbraio cambiamo decisamente pagina andiamo a Udine per parlare di conflitti di interessi mercoledì ci sarà un tavolo politico in regione per mercoledì 29 luglio è convocato a Udine alle 10 nella sede della regione nella sala Caghi un tavolo politico in tema di conflitto di interessi dei consiglieri presieduto dal presidente del consiglio regionale Franco Jacop con la presidente della regione Deborah Serachiani e il capo gruppo consigliari la convocazione del tavolo fa seguito all'approvazione in consiglio regionale della mozione numero 134 sulla necessità di maggiore pubblicità e trasparenza per prevenire possibili situazioni di conflitto di interessi dei consiglieri regionali e adesso avrà il compito di definire le linee di un intervento normativo teso a risolvere il problema del conflitto di interessi con particolare riferimento alla revisione della legge regionale 21 del 2004 in materia di causa di ineleggibilità e incompatibilità e a Pordenone tutto pronto invece per la tre sere internazionale città di Pordenone scopriamo di cosa si tratta tutto è pronto per la quattordicesima edizione delle tre sere internazionali città di Pordenone la prestigiosa manifestazione organizzata dall'associazione Amici della pista di Pordenone con il sostegno della fondazione Krupp nel velodromo Ottavio Bottecchia si apre proprio in questo martedì sono 20 le coppie iscritte in abbinamento a uno sponsor diverso in scaletta tuttavia non ci sono le gare ciclistiche a coppie a Pordenone infatti si svolgeranno anche l'omnium internazionale che assegna punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro il campionato italiano di Derni e gare giovanili di contorno quattro testimoni all'eccezione le glorie del ciclismo del Friuli Venezia Giulia Elena Cecchini Davide Cimulai e Annalisa Cucinotta e l'atleta Alessia Trost neocampionessa europea under 23 nel salto in alto la tre sere internazionale città di Pordenone è intitolata alla memoria di compianto Demetrio Moras giudice di corsa recentemente scomparso andiamo adesso nella bassa friulana con la cronaca che ci porta subito a Lignano per parlare di una ragazzina minorenne finita in gravi condizioni all'ospedale dopo aver assunto una pastiglia di ecstasi sentite ha rischiato di morire per una pasticca di ecstasi una studentessa di 17 anni che vive in un paesino della provincia di Pordenone e sta facendo la cameriera a Lignano all'alba è stata accolta in condizioni gravissime all'ospedale di La Tisana per una intossicazione da sostanze allucinogene era andata al Cursal di Pineta con due amici maggiorenni verso le 5 si è allontanata e dopo circa mezz'ora si è rifatta viva e ha mostrato i primi malesseri si è appoggiata alla spalla di uno dei due ragazzi battendo con la mano chiusa a pugno sulla sua schiena evidentemente per attirare l'attenzione lui si è girato e lei lo ha abbracciato per poi perdere completamente i sensi il giovane è riuscito a stento a trattenerla evitando che cadesse a terra ma il corpo della 17enne gli è comunque scivolato dalle braccia immediata la chiamata di soccorso che ha portato sul posto i sanitari del 118 la ragazza è stata trasportata in ospedale dove è giunta in condizioni critiche per diverse ore la prognosi è rimasta riservata e solo nel pomeriggio di ieri ha ripreso conoscenza e per i carabinieri della compagnia di La Tisana e della stazione di Lignano è stato possibile sentirla per capire chi le avesse fornito o venduto la pastiglia la giovane che aveva assunto anche alcolici non ricordava nulla era confusa le sue condizioni sono migliorate solo in serata Maxi colpo invece all'ottico a Palazzolo dello Stella il sindaco è incavolato e tanto da scrivere su Facebook ora basta con il buonismo sentite colpo da 20.000 euro nel negozio di ottica di Elena Battistutta di Palazzolo dello Stella erano le due di notte quando una banda ben organizzata di malviventi ha spaccato la porta sul retro agendo molto velocemente nonostante l'ingresso fosse protetto da un vetro antisfondamento una volta all'interno i ladri hanno portato via tutti gli occhiali esposti nelle vetrine tutti griffati sul caso stanno indagando i carabinieri della compagna di La Tisana durissima la reazione su Facebook del sindaco Mauro Bordin ti svegli la domenica mattina e scopri che un'attività del tuo paese ha subito un furto dopo che qualche giorno prima era capitato nel paese vicino da sindaco ti monta la rabbia da cittadino la frustrazione di vivere in un paese che sembra considerare la tutela dei delinquenti italiani e stranieri prioritaria rispetto a quella della persona onesta e per bene siamo regione di confine e i confini vanno pattugliati e difesi lo Stato e la regione utilizzino i fondi stanziati per i clandestini per assumere forze dell'ordine per far pattugliare i confini dall'esercito per controllare le auto e le persone sospette che li attraversano e poi altro che reatto di tortura ci vogliono pene certe e severe per i delinquenti e processi rapidi chi delinque italiano o straniero che sia deve farlo sapendo di trovarsi in un paese che reagisce con durezza e fermezza finiamola con il buonismo del C si deve essere buoni con le persone per bene e inflessibili con chi delinque torniamo a Lignano lo scrittore Marcello Foix è protagonista di incontri con l'autore e con il vino è un autore fra i più amati dai lettori italiani e non solo Marcello Foix è scrittore politico attivissimo non solo nell'ambito letterario ma anche nel campo teatrale radiofonico e della fiction televisiva l'occasione per incontrarlo in attesa della sua prossima tappa a Pordenone Legge arriva dal ricco cartellone degli incontri con l'autore con il vino di Lignano promossi dalla situazione Lignano nel terzo millennio per la cura artistica dello scrittore Alberto Garlini l'appuntamento è per giovedì 30 luglio al Palapineta alle 18.30 Marcello Foix sarà protagonista di un incontro dedicato alla sua ultima prova narrativa Luce Perfetta terza parte della sagra della famiglia Chironi dopo Stirpe nel tempo di mezzo gli anni 80 tra citazioni letterarie musica pop e vicende legate alla storia nazionale recente in una Sardegna che fa i conti con il passato Luce Perfetta è un romanzo che pone domande sulla contemporaneità e sul tempo in una continua tensione drammatica servita da una struttura rigorosa grande ritmo e da una scrittura sempre tesa e vigile l'incontro sarà accompagnato dai grandi vini dell'azienda Caronesca selezionati dall'anologo Giovanni Munisso l'ingresso è libero l'informazione della Friuli Venezia Giulia si ferma qui grazie per averci scelti vi auguro una buona serata con i nostri programmi e ci rivediamo come sempre nella prossima edizione a risentirci a risentirci grazie per averci scelti